Una buona giornata e un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili per lavori ci sono due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze, rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sulla A1 fare attenzione per possibile neve sul tratto appenninico tra Barberino e Ronco Vilaccio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga in direzione Bettolle. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!